Oh, giorgizio si viene Chat Il soggiorno vi piace? Divano, tappeto e puff Però chat, non vi ho detto i prezzi Questo puff qua Quanto è il prezzo che paghereste per averlo? 59,99 70 Se hai più di spesso di 70 euro sei scemo Nessuno ha ancora scritto il prezzo Perché tutti quanti avete scritto meno di quanto è ragazzi Amici di Giorgizio City Vi interrompo un attimo la visione del video Soltanto per ricordarvi che in questo momento Alle 15 sono uscite le mie 100 bottiglie Di gin gioie ragazzi Numerate e firmate da me C'è lo store in descrizione Accorrete all'acquisto delle 100 singole bottiglie Numerate e firmate dal Giorgizio Del suo gin e bevete responsabilmente E ci vediamo in live Però aspetta, 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 aspetta un attimo Mi voglio sdraiare e vi voglio far vedere La comodità 159 Sono stato truffato Tra l'altro il puff è contenitore E infatti lì dentro ci ho già messo un botto di robe Ci ho messo un botto di cose per la casa Possiamo vedere Oh ragazzi ma perché dobbiamo fare sta cosa? Perché dobbiamo fare sta cosa? Cioè se io vi ho detto che è contenitore Ci ho messo dentro le robe Entraci dai Ci entro Ci entro Ci entro Alcol, 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 alcol Abbiamo comprato questo Perché? Perché voglio prenderlo così In la cucina Per inserire le spezie, le speciali, il sal, il pepe Il pepe Questo è il problema Il problema Il venditor La Las Ikea Abbiamo deciso di non inserire le spezie Per Trappare il muro Io non ho avuto vita in casa Come è possibile? Hoi è il domingo Il domingo sta tutto cerrato Chico Para voi Quanto cuesta il prezio In euro? Quanto? Quanto sta? Se chiama Ackerbrooke Viamo tutti E para insieme Ustedes Ackerbrooke 12 12 12 euros 12 euros Vale Vale 12 E sta muy Honesto Ese è il furto Però Il rapinador Sono Nosotros Io avevo comprato Un avitador Un avitador Il trapano Quanto è il preco? Il prezzo 5 minuti finiti 5 minuti finiti Allora Avevo bisogno anche di un avitatore Il trapano in casa Che non c'avevo Mi è costato 35 euro Possiamo vederlo Ce l'ho lì Lo devo prendere Sì Una domanda Come cazzo si attacca Ragazzi sta cosa? Cioè questa è la batteria Che era esclusa Non si attacca È monouso Ma cosa vuol dire monouso? Che trappano Una volta È da buttare? Crazy Fra c'è pure la lucina Cioè guardate bene la lucina Guardate bene la lucina Ragazzi Minchia quanta luce fa È la batteria di un altro modello Per un 360 dell'avvitatore Non c'è spazio per la mia città Per fro Aiutatemi un attimo E si chiama Trixie Trixie Anche questo Si chiama Trixie Cos'è questa cosa? Cose che non ti interessano Non fare danni Ah No ragazzi Insomma c'è qualcosa che non Che non abbiamo capito ancora Però non si stacca niente di sta cosa Non si stacca nulla Non si stacca niente La batteria di un altro trapano È sicuro ufficiale Ma minchia ma sono gli stessi colori Sono gli stessi cazzo di colori Ikea Trixie Gravitatore trappano i oli di video È che questo No fra non c'era questa confezione con me Ma no ma anche il trapano è diverso Non è che c'è un pezzo che Non è che non c'era Guarda la batteria Eh ma no ma mi hanno inculato di brutto ragazzi Ma vedi che sono diversi Ah Eh sì Ah Usalo per spinnare la ruota Crazy Funziona di brutto Mi è arrivato un pacco Da Activision e Dolly Noire Ve l'ho fatto vedere nelle storie Chat Ma ste spillette di zombie Incredibili eh E sono anche numerate Uno del 1991 Come la cazzo di Colt Prezzo Prezzo Perché sono in vendita eh Saranno in vendita sul sito di Dolly Noire Prezzo secondo voi Sono l'edizione limitata 150 euro 20 euro 20 euro Prezzo 20 euro 20 euro 20 euro 20 euro E poi mi hanno dato anche Questo poster Se lo appendo da qualche parte in casa Ci sta bene o è una cringiata Insomma è molto bello eh Come colori anche eh Questa qua è la maglietta Con La Regan Più 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 Incredibile frate E poi Questa felpa C'è questo maglione Che dietro c'è il mostro Di zombie Di Black Ops 6 Però c'è guardate Mi sta troppo grande Freddissi Sicuramente non avevo guest Non dieci Ma sei pazzito Ma sta tutto pazzo Chat si spin ups Ho 4 minuti nel puff Frate Ma da giornate per cento Che si spinna Porco dio Spero l'alcol eh Spero l'alcol eh Spero l'alcol eh Spero l'alcol eh Grazie a tutti. Ve ne siete resi conto che mi ha mozzicato durante le flessioni e non si è visto? Cioè mi ha mozzicato il braccio la troia?